La Lazio vince a San Siro 1-0, sono emozionato per più motivi ragazzi, sorpasso fatto, sorpasso su De Kippeo, sorpasso sulla Roma, siamo di nuovo sopra la Roma, ma non è questa la cosa importante Peo, ma abbiamo puntato ora, stiamo puntando ora il Milan e la Lazio, dillo tu, ha una partita in meno, quindi potenzialmente potremmo stare lì, ed è fighissima sta cosa La parola potenzialmente è molto bella, perché la Lazio deve recuperare la partita contro l'Udinese, in settimana avremo la sfida contro la Spal, ma prima parliamo di questa partita, la Lazio prende tre punti importantissimi Peo, e l'Inter diciamo che comunque è una squadra che durante il campionato ha fatto bene, ora si trova al terzo posto, sinceramente non so come, perché ragazzi Ha un grande portiere Sì, come ho sempre detto, Andanovic è uno dei migliori punti, se no il portiere più forte della Serie A, lo devo ammettere, perché pure stasera ragazzi Hai un buon portiere che ti salva dei punti importanti, a posto ti trovi lì, un po' per caso Inter e Milan secondo me potrebbero arrivare al quarto posto a pari merito, al terzo posto se la Roma e la Lazio avessero mantenuto un certo ritmo durante la stagione, secondo me ci sarebbero arrivati loro Questa partita un po' lo dimostra, anche se l'Inter ci ha provato a fare qualcosa, è pure vero che nel secondo tempo soprattutto Stragoscia non fa mezza parata Mentre Andanovic, anche se la Lazio ha attaccato poco Peo, ha fatto il suo Sì, ha fatto delle belle azioni, purtroppo qualche tiro fuori di Ciro, tanta roba Caisedo, Caisedo, impressionante Caisedo ha fatto un qualcosa che, oh mio Dio, un'azione tutto da solo, si è scartato tre persone, ha tirato Si è mangiato Scrinia, ti rendi conto? Cioè comunque Andanovic c'è la tinta a parata, però insomma, oh, Caisedo Ma pure il colpo di tacco che ha fatto il Roma nell'area dell'Inter con l'immobile che arriva di morte, purtroppo non apre bene il tiro Ma ragazzi, il primo gol della Lazio dimostra quanto noi potremmo essere superiori Perché la pennellata d'autore, secondo me, non me ne voglia Milinkovic che per poco non ci metteva la caboccia contro quel palo Madonna quel palo 70% del gol lo fa Luisa Alberto Perfetto Una pennellata che ti fa innamorare del calcio, la palla gira perfettamente su Milinkovic Che fa anche il suo, che comunque va a superare di testa il tercino, il difensore dell'Inter Già gli aveva preso 10 cm soltanto perché Milinkovic è un armadio a due ante Scopo di testa perfetto, la Lazio la 1-0, poi cambia un po' la partita Perché come ti avevo detto, i primi dieci minuti ho avuto un po' paura di quest'Inter Sì, l'abbiamo visto che attaccava, che faceva, che c'era voglia di fare Ma che è successo? Poi siamo sciati Poi abbiamo visto la vera Inter, un Inter che ragazzi fatica ad avere, secondo me, un vero logo di identità di gioco A me il gioco dell'Inter che non esiste, non mi piace, perché non esiste No, a volte non si capiscono manco tra compagni Ora la giustificazione dovrebbe essere il caso Icardi, il caso Lodoro Martinez Però ragazzi, la Lazio ha avuto durante la stagione dei momenti dove mancavano 4-5 calciatori E l'identità di squadra comunque la vedevi, la vedevi qua Mi sembra tutta una caciara messa lì Politano ci ha provato Boraccio 200 volte Che ita stesso che a me mi sta un pochino sui coglioni Devo dire che nei primi 70 minuti è stato il migliore dell'Inter Ma a mani bassi Ci hanno messo in loro però ecco, tutte giocate singole Perché se si tratta di squadra, è vero che sono uno sconnesso dall'altro E poi Non si intendo, non si capiscono, non sanno che devono fare Fammi chiudere il video dicendo che la Lazio ha imparato a soffrire La Lazio nel suo tempo ha sofferto tantissimo Ma la difesa è stata impressionante Abbiamo visto pure un Luis Felipe che è tornato da questa infortunia a 3.000 Perché il Luis Felipe ragazzi è tornato davvero bene Qualche tempo fa su alcune azioni dell'Inter un po' a caciara Avremmo preso gol Sì Avremmo assolutamente preso gol Invece adesso gestiamo anche la fase difensiva E poi Con l'ho dato bene Comunque parliamo sempre di Stragoscia E zitto zitto La parata è il primo tempo Le belle parate Lentino fa Poi non sa rinviare Perché non sa rinviare Però le parate sue se le fa Povero Thomas quando si tratta di rinviare è meglio non parlarne L'unico un po' in ombra a sto partito Per tanto lì è stato Bastos C'è vista l'assenza di Radu Ha fatto quel colpo di testa in bocca Sì Ma gioca in difesa, gioca in attacco Ok è bello il colpo di testa Vabbè ma lui è Bastos Ancora Andano Anche se quella è stata la forza parata più facile Per Andano e cercherà di trovare addosso Eppure è vero ragazzi Eppure è vero che Bastos Che ci fosse stato Radu Radu agli ultimi anni Invece di peggiorare Visto l'età È migliorato Migliorato È migliorato Migliorato No vabbè Forse l'unica nota negativa È proprio Bastos Tutto il resto immobile Ha corso tantissimo È sacrificato tanto Ha preso cagni, pulci Cagni Calci, pulci Tutto Nel secondo tempo Non ho contato quanti fagli È riuscito a prendere Il giro immobile ragazzi Non l'ho perso Poi pure Luisa Alberto Uscito Sì Però ragazzi Ci vogliamo parlare anche Per la stazione Luisa Alberto Oltre l'assist È tornato a dare una qualità Eccezionale Veramente Ma io sono contenta Che sto rivedendo in campo Finalmente Il mio Luisa Alberto Sai quanto io ci tenevo A Luisa Alberto E il mio Il mio Milinkovic C'è stato quel periodo Un po' Inizio stagione 3-4 mesi Quando era a baciare La telecamera No Si sono rivisti Adesso si vedono in campo Fanno delle azioni bellissime E la Lazio E la Lazio Convince E piace anche come gioca Piace anche come gioca Ha una solida identità Questa per la Lazio La Lazio Fantasia Chiamiamolo Spero che Correnza Si è fatto niente Perché la Lazio Fantasia È anche merito del tubo Assolutamente Parliamoci chiaro Che è mancato un pochino Però abbiamo fatto vedere Che anche quando si tratta Di fare la quantità Con Parolo e Chesedo Andiamo bene comunque Chesedo ogni tanto Ultimamente Si sta tirando fuori Delle giocate Che dici Ma quello è davvero Chesedo Secondo me c'è qualcuno Sotto che si è travestito Perché Non è possibile Non è possibile Un spirito di Anderson Ma può essere Cioè ma quando mai Ha fatto quelle giocate Così di qualità De classe Con la freddezza Cioè Chesedo Era quello che entrava Correva Correva Vado a spallare Tutti quanti Intanto tirava in porta Ma se ne esce con Scarta Così tranquillo Qui di tacco Un gusto del corpo Perfetto proprio Che sei tu Cioè tesoro mio Ci piaci eh Ragazzuolo Ragazzuolo Ragazzuoli Lasciamo la parola a voi Mi raccomando Spolliciate Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Anzi no Ai canali Ecco Allora Se scorda sempre di me Qualora non l'aveste Già fatto ovviamente Ragazzuoli miei Da Pene de Queen Out of World E da Milo è tutto Forza Lazio Gariga No 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 Ho detto Forza Lazio Ho capito Forza Lazio Forza Lazio Gariga